Segnato da proteste e polemiche, il CETA, il trattato commerciale tra Unione Europea e Canada, arriva sul tavolo del Parlamento europeo. Mercoledì gli eurodeputati voteranno il testo dell'accordo, che secondo i suoi sostenitori garantisce i migliori standard anche per i futuri accordi di libero scambio. Il CETA ci offre un'occasione d'oro per dimostrare che siamo diversi, spiega il relatore al Parlamento europeo, che siamo migliori, che siamo in grado di creare un buon accordo commerciale da parte dell'Europa, garantendo allo stesso tempo i nostri migliori standard. Dopo sette anni di negoziati, il CETA rimane un accordo giudicato dai suoi avversari antidemocratico e troppo favorevole alle multinazionali, che grazie a dei sistemi di arbitraggio potrebbero chiedere un risarcimento da parte dello Stato, se lese da regolamenti nazionali. Paro che gli Stati membri si rivolgano alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché è molto importante chiarire se le previsioni del trattato rispettano lo scopo dell'accordo o meno. Finora non c'è alcuna chiarezza sul punto. Il voto favorevole del Parlamento europeo permetterebbe la sua applicazione provvisoria, ma per entrare in vigore dovrà essere ratificato dai Parlamenti nazionali e regionali dei 28 Stati membri.